E' ufficiale, tempo permettendo, inizieranno questo lunedì 6 maggio i lavori di trasformazione del centro storico di Montevarchi, opere di ristrutturazione che cambieranno il volto dell'ovale, come ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Arianna Righi. Il cantiere in certo storio partirà da lunedì, quindi da lunedì partiranno i lavori, già i nostri tecnici si sono già, diciamo, in qualche modo organizzati con la ditta, quindi da lunedì, se il tempo lo permette, inizieranno i lavori da Via Tieste, come abbiamo sempre detto, altrimenti inizierà l'allestimento qui al cantiere di Levanella, dove è l'altra parte, dove è il progetto del campo sportivo. Quindi, in base al tempo, visto in questi giorni purtroppo speravamo il bel tempo, ma a quanto pare non è così, verrà deciso dove iniziare. Comunque tutto da lunedì. Dunque da lunedì, se il tempo sarà clemente, come hanno più volte ripetuto gli amministratori del Comune, i Montevarchini. Soprattutto i residenti di Via Trieste, da dove inizieranno i lavori, dovranno munirsi di molta pazienza per affrontare i disagi che l'intera operazione arrecherà in vista di una Montevarchi più vivibile e più alla portata dei turisti.